Quando Antonella Clarice ha definitivamente salutato il pubblico della prova del cuoco dopo 18 anni insieme, ha anche annunciato che al suo posto da settembre sarebbe arrivata Elisa Esuardi, non proprio una novità per la conduttrice di Buona Sapersi che aveva già sostituito la regina dei Fornelli in passato. Antonella Clarice ha voluto pubblicamente fare un grande in bocca al lupo alla collega, elargendo nei suoi confronti solo belle parole, al contrario la compagna di Matteo Salvini, secondo quanto sostiene Maurizio Costanzo, non sarebbe stata così corretta. Dalle pagine del settimanale nuovo per cui cura una rubrica, infatti il baffo di Canale 5 ha espresso dubbi sulla buona fede di Elisa Esuardi quando si è congedata dalla trasmissione di Rai 1 dicendo «Ci rivedremo a settembre cercando di fare la prova più bella». Per chi fa televisione ha evidenziato sul magazine Il Marito di Maria De Filippi, lo schermo è un mezzo di comunicazione e i programmi sono un po' come casa, in questa occasione però la Elisa Esuardi ha lanciato alla collega una frecciatina poco elegante. Forse la nuova conduttrice della prova del cuoco ha peccato di insolenza cercando di voler migliorare lo storico cooking show? Forse voleva soltanto lanciare un indizio agli spettatori prima che fosse la clerice a ufficializzare il suo arrivo? Oppure si riferiva alle sue passate esperienze in cucina quando ha avuto difficoltà a far brecciare il cuore dei fan? Non sappiamo quali fossero le sue intenzioni, certo è che se un guru del piccolo schermo come Maurizio Costanza ha ravvisato nelle parole di Elisa Esuardi una frecciatina verso la collega, difficilmente qualcuno potrebbe contraddirlo. Grazie per la visione!